Oggi si parla di bando delle periferie, di fondi che l'amministrazione comunale investe proprio per la riqualificazione di queste aree e si parte da Fontanelle. Siamo contenti oggi perché annunciamo anche uno dei tanti progetti del bando periferie. Oggi siamo qui a Fontanelle in via caduta del servizio. Riteniamo che questi progetti siano importantissimi. Siano importantissimi perché diano anche un aiuto, anche concreto alla cittadinanza, anche di inclusione sociale di tutta la popolazione che abita qui, che sono veramente tanti. Noi ci stiamo mettendo tante risorse come amministrazione, potete vedere anche i lavori pubblici che abbiamo fatto qui. Abbiamo un sistema di videosorveglianza molto innovativo. È importante che l'amministrazione e il comune si sposti da Piazza Italia con questi progetti dove all'interno dei quartieri, soprattutto in questo caso qui a Fontanelle, andiamo proprio all'interno di quei contesti sociali dove la stessa cittadinanza ci dice di fare tanti progetti, tante iniziative, anche di dare accordo a tutta la popolazione che vive in questi luoghi. Noi vorremmo fare e faremo un censimento delle domande che, come diceva l'assessore, vengono dai cittadini. Cercheremo di organizzarle su piattaforme, anche col volontariato, su piattaforme operative. E in qualche modo cercheremo di risolvere anche i problemi più difficili di vita qui, perché ci sono le prime segnalazioni che noi abbiamo avuto quando siamo venuti qui per aprire gli uffici e molte signore di una certa età ci hanno detto ma per caso potete aprire una farmacia, per caso potete aprire un negozio. Questo dà la sensazione della necessità di attrezzare, ma non è solo questa l'attrezzatura di cui abbiamo bisogno. Mi ho bisogno di attrezzare anche dal punto di vista della capacità delle energie positive che ci sono in questo quartiere di esprimersi attraverso anche momenti di occupazione, di tempo libero. Se c'è voglia di creare un'attività, anche una cooperativa, noi lavoreremo con loro, fare in modo che nasca questa struttura, questo strumento per esprimersi nel campo professionale. Lo faremo anche in raccordo con gli ordini, con le categorie. Quindi in qualche modo la città viene qui, non solo noi in città. E questo è importante perché cerchiamo di chiudere quella cesura che c'è stata o che c'è sia tra la città che il quartiere che sia all'interno dello stesso quartiere. Il lavoro sarà questo, quindi quello di far esprimere le energie positive che c'è a questo quartiere.